buongiorno dalle macchie poca acqua si sperava qualche cosa di più pochissima acqua veramente ha piovuto pochissimo in questa zona invece una parte di catanzaro di crotone altri posti ha fatto veramente tantissima acqua fa niente sono qua per raccogliere ancora un po di pomodoro siamo verso la fine però 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 quando tutto il resto della zona è tutto secco paglia da me ancora non dico che sia il massimo è però si trovano questi bellissimi pomodori chissà per quale motivo fortuna mai avuto fortuna vitamina si dovessi cambiare di fortuna ero già morto da trent'anni mai una sola volta al 50 50 per così eppure c'è chi pensa di tutte le cose vorrei vedere loro pagina e gli stavidi e mi coraggio di farlo roba col pose a meno due casse ci sono guarda lo va ciao 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 Grazie.